Musica Salve a tutti ragazzi sono Warthomas con la seguendo in questo nuovo video di Black Ops 3 Oggi andremo a giocare a molti seguitori e faremo un paio di partite Eeeh purtroppo Qui è arena che cazzo eh Non mi ricordo davvero troppo che non gioco Comunque giochiamo normalmente Partita pubblica facciamo un paio Beh in questo video facciamo Deathmatch a squadre E nel prossimo invece faremo TCT Ho visto che con dispiacere non ci sono le modalità bonus Ovvero tipo gioco delle armi e robe simili Penso che li mettano raramente Comunque è una cosa che fa davvero male Ad esempio avevamo messo anche l'Italia della pietra Che è una grande modalità Non ho avuto modo di provarla La giocheremo su Black Ops 2 Però vi porto un video dove la giocheremo su Black Ops 2 Cazzo poco tempo fa 4 mesi fa la giocai e vinsi pure le partite Che è davvero una bella modalità Allora Cosa usiamo? Usiamo qualcosa per farsi il livello Questo ci manca ancora un livello Vediamo un po' la sensibilità Eh Niente 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 più Un po' di più Vediamo un po' se si può regolare la sensibilità mirata Vediamo un po' di più Vediamo un po' di più Sono cecchini di sto cazzo Ah vaffanculo della finestra di merda E con la sensibilità ovviamente ci sono ancora Mi devo riprendere Ucciso? Merda vaffanculo che palle Riperguasto Cristo non ce lo faccia volevo Non ce lo faccia Volevo strisciarli sotto Sì vaffanculo va Ah l'ha ucciso vaffanculo che palle Riper Dietro dietro Merda dai cazzo Andicappato si è strisciato quello davanti Ecco facciatelo avanti Stiamo perdendo Dove cazzo sta? Dai quanti cazzo sono? Minchia 20 uno che guarda per terra Gli altri due che mi sparano Ma che cazzo è? Questa sarà sicura il livello più alto di me Quello che guardava a terra Il mongolo Qui ce n'è di gente No perché ho preso in mano il cazzo di tira pugni Ma vaffanculo Dai stiamo perdendo un casino Fatto assist Dove riabituarmi Non gioco davvero da un sacco a code in generale Non questo block up strea che Reputo il miglior code di sempre Vaffanculo va Qui c'è qualcuno Ero sicuro ci fosse qualcuno Da dietro ce l'ho ammazzato Ma non è che ne sono andato In testa No L'ho tolto però Mi ha ammazzato Me ne ero dimenticato di queste Di queste merde qua Dai a vedere i coglioni Ma vaffanculo Vaffanculo Il cazzo di potere di merda Me lo devo fermare così Dio bastardo Me l'hanno tolto tutto Metà per metà Vabbè Si può fare C'è una la palestra No 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 Merda Che palle Quando ti stordiscono Svilanciato come una merda Non è possibile Non sanno giocare Quelli che stordiscono Madonna Cristo Assist Questo mi ha fottuto Bravo Non me lo aspettavo Sarei serio Qui c'è uno Ammazzato Mi sa Uno dietro Vaffanculo Come ha fatto A sparare così preciso Da lontano Questa è persa Cazzo Non si può fare niente Anche la squadra È una bella merda Proprio una bella squadra Di merda Dove cazzo è? Vaffanculo Non guardo mai La minimap Che cazzo è Ma vaffanculo Ha messo tipo Ho capito cos'è Tipo tirato il potere Fortissimo Non è un giocatore Ma è Un approfissionamento O tutto il genere Non mi ricordo Mi schiava L'ho devastato Cazzo Tirato il potere Non si fa niente Un bastardola C'è ancora Quelle sentinelle Di merda Ma sono troppo forti Sconfita Non conteggiata Per la vita in corso Dai ne facciamo un'altra Questa è la prima partita Dopo un sacco di mesi Che non giocava Molti giocatore Non è andata Tutto sommato Così male Nel prossimo video Faremo TCT Crucco del cazzo Banks Usciamoci Usciamoci da qua Mi pare che Abbiamo fatto Il livello 14 Dell'arma Andiamo Andiamo un'occhiata 14 Il livello massimo Ai cazzo Sono un botto di livelli Ancora da fare Andiamo un po' Se possiamo cambiare qualcosa Calcio Alto calibro Cambiamo un po' Arma Va Classe Possiamo utilizzare Beh questa è la meca Direi di no Speriamo che ci sono i cecchini Posso cambiare l'ottica Il cecchino Non c'è Posso toglierla Che mettiamo Dai ci proviamo così Mettiamo qualcosina Sciacallo Speriamo a giocarcela così Vediamo che succede Altrimenti Se va malissimo Proprio male male Passiamo a questa Vesper Questo è un po' Più veloce Smash a squadre Partito è già iniziata Come sempre Mi come scatta Sta mappa di merda L'ho ottimizzata male Ho già avuto modo Di giocarla Non posso saltare di qua Nemico Non è pompa Buono Va vaffanculo Non si può competere così Prendo la Vesper Va Vediamo un po' come sta Ma mi ricordo che spara Una davvero molto veloce Però non mi ricordo il controllo Come sia Buono No vaffanculo Dio merda Proprio quando ricarico Potevo gestirmela meglio Tanti colpi li ho Buona questa arma Un amico Cristo Ma scambia bare Non si può Io sono Tutti col pompa Cos'è Non mi ricordo come si chiama Niente Smirato tantissimo Sniper words Nemico qua Nemico qua Che cazzo ho tirato Ma dai Finito le munizioni Che palle Sto morendo Sto morendo Capare sto gioco Madonna Subito dietro All'amico di merda Poi neanche li vedo E li vedessi un colpo Ci proverei a darglielo Ecco l'amico di merda Vaffanculo Vaffanculo Pigliatolo in culo Dio bastardo No 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 Ecco E ci ho provato Una sessione anche un po' Di giocatori di merda Quanto meno Nella mia squadra No Ci sono pure Ste merde Dai Ma che cazzo faccio Non puoi combattere Ste roba Cioè le difficilità Sono troppo davvero forti Non puoi buttare Giulia Aspettare che esplodano tutte Ci vorrà un milione di anni Guarda Guarda quanti cazzo Di colpi Le ho date Poi tanto Mi ammazza sempre Ammazza sempre Non puoi scappare Adesso ne arrivo un altro Questa la stravincono Porco dio Così Un altro merda dietro Ma si incastrano Madonna E io non riesco a girare La visuale Vattene a fare in culo Va Ma pure se sei in aria Ti esplodono Dio merda Basta Quando finiscono Hanno fatto già 30 uccisioni Con solo quello schifo Dio Dio Andiamo qua Andiamo qua Dove sta Dove sta Va dentro Minchia buono Vaffanculo Cazzo Niente da fare Qui nemici Alla grande Madonna Non riesco proprio Non ce la faccio Non rompete il cazzo Non rispondo a nessuno Andate a fanculo Nemico dietro A destra Cristo Non ce la faccio Proprio eh Abbiamo arma Non meno war Questo dovrebbe essere Un po' più lento Però comunque è forte Ah da dove La bomba non mi è arrivata da davanti Non sono sicuro Madonna Non ho in mente che nessun'arma io Penso di averle messo Guarda 52 100 Ma vaffanculo Va Guarda quanto cazzo De volte sono morto 17 volte Voi voi partite più brutte Che abbiamo mai fatto Proci Cristo Guarda con che cazzo Siamo contro Porco Dio Guardate che roba 48 10 480 Di rapporto Ci sono i morti Beh Un pochino sbilanciato Leggermente Anche Sommando tutti i livelli Della sessione Quello livello 1000 Porco Dio Avrà giocato un casino Guardate che vi è emblemicano Questi sono tutti i turchi di merda E invece questo qua crow Un'aquila Ma vai affanculo Guarda quanto soldi ce l'hanno ha speso 2000 euro di roba Una spesa Sei bastardi Per avere tutte queste immagini Vabbè Non importa Ci vediamo presto con il prossimo video Di Black Ops 3 Dimmi se vi piace l'idea Devo prenderci la mano ovviamente E devono cercare di sistemare il gioco Ma non lo faranno mai Perché è già finito Lo sviluppo di questo gioco Vedremo Black Ops 4 Che sono davvero molto curioso Di molti giocatori Che sembra davvero bello Quindi ragazzi Per questo video tutto Ci vediamo presto con il prossimo video Di Black Ops 3 Ciao